Ciao da Apsim! Mi vergogno, come si dice in francese, vergogna, vergogna, una partita vergognosa della Francia che nonostante questo vince e batte l'Austria. Austria-Francia 0-1 autogol, 0-1 su autogol con Deschamps che esulta, evviva, abbiamo segnato, cosa hai segnato? Un autogol tra l'altro assurdo, un autogol assurdo di Weber su una giocata di Mbappé che aveva saltato l'uomo, ha messo dentro il pallone, ma c'era anche Griezmann appostato, ma una dinamica di questo colpo di testa che deposita il pallone alle spalle del proprio portiere davvero assurda. E poi, appena segnato l'1-0, tutta la Francia chiusa dietro, tutta la Francia nella propria metà campo e abbiamo visto anche per larghi tratti del secondo tempo la Francia giocare di ripartenza senza neanche voler andare a segnare. Prova ne è il fatto che al 98esimo, anzi al 99esimo, proprio all'inizio del nono minuto di recupero, Turam prende questo pallone, va in attacco e si ferma, si ferma, non cerca neanche di tirare, perché lo scopo è semplicemente far terminare la partita e difendere l'1-0. Turam, un giocatore allenato all'Inter da Simone Inzaghi, una squadra schiaccia sassi che ha cercato il più possibile di vincere, stravincere, dominare, va in nazionale e cambia completamente volto. Rabiuga stasera ha deciso di giocare a calcio e forse anche abbastanza bene, forse perché è alla ricerca di un contratto, ma d'altra parte si trova benissimo in una squadra che fa non gioco e non calcio come la sua Juventus di questa stagione, fino ad un certo punto. E com'è possibile dover accettare Kempappé, Dembélé, anche Rabiot, Kanté, Teo Hernandez, Griezmann e tutti gli altri, Turam stesso, così offensivi, poi entra anche Kamavinga, ci sarebbe stato addirittura anche Coman in panchina che non è entrato, Colomuani e tutti gli altri. Com'è possibile, come può essere mai ammissibile fare questo tipo di gioco? Cioè non giocare, attaccare il minimo, metterci la qualità ma più bassa proprio o comunque grande qualità tecnica del gesto tecnico, grande freschezza atletica, questi strappi, queste corse negli spazi a tratti anche molto pericolosi, ma con quale costrutto, con quale gioco, con quale organizzazione, con quali sinergie e soprattutto con quale voglia di giocare a calcio. Una squadra scandalosa la Francia, ma sarà più bello quando sarà eliminata, molto semplice, sarà più bello quando sarà eliminata. E anzi io sono contento così, perché gli italiani hanno bisogno, gli italiani hanno ancora bisogno che gli venga sbattuto in faccia l'anticalcio, hanno ancora bisogno e con la Francia che quasi nessun italiano potrà mai tipare per la Francia, ce ne sono, sono pochi, ma c'è un'idiosincrasia generalizzata e allora vai finalmente a identificare il non gioco con una cosa che non ti piace e quindi dici, ma a me questa cosa non piace e quindi vai ad associare la Francia che non ti piace con il non gioco che non ti piace e quindi veramente il non gioco non ti piace, anzi, questo è proprio educativo e dimostrativo per quelli che ancora si fanno piacere il non gioco e l'anticalcio. Ecco, beccatevi questa, non gioco e l'anticalcio fatto dalla Francia, vedi se ti piace, vedi se lo difendi, vedi se lo proteggi. Dall'altra parte l'Austria è incomiabile, avrebbero potuto giocare decisamente meglio, soprattutto il primo tempo e il secondo tempo, però veramente notevole dell'Austria, occasione clamorosa con Baumgartner nel primo tempo, altre occasioni importanti o potenziali nel secondo tempo, ma grandissima aggressività nel recuperare il pallone, la Francia non voleva la palla, per lunghi tratti di partita manco la volevano la palla, stavano lì acquattati a fare le spazzatone, ad aspettare l'errore dell'avversario, vi ricorda qualche cosa? Vi ricorda qualche cosa? Ecco, ho voluto mettere una maglia blu, qui c'è scritto la mia squadra ha un allenatore, collezione Tocco Felpato su ToccoFelpato.shop, ma è sbagliata questa maglia, perché la Francia non ha un allenatore, ed è sempre lo stesso da troppi anni, dice sì ma hanno vinto il mondiale, sono arrivati in finale del mondiale, ma il gioco sarà più bello quando saranno eliminati, sarà più bello, e mi dispiace per l'Austria, perché avrebbe assolutamente meritato perlomeno il pareggio per il gioco che c'è stato. Per me, tra l'altro, partita non bellissima, l'unico che si salva a cui do il premio MVP è Danzo, difensore dell'Austria, che tra l'altro gioca in Francia, che era stato accostato al Napoli come sostituto di Kim Min-Jae, infatti su Absimaut trovate un mio video su Danzo dell'estate scorsa, poi hanno preso Nathan e dissi che sarebbe stato probabilmente un grande acquisto, e si è confermato anche quest'anno, Danzo è veramente un difesore forte, lo ha dimostrato anche stasera praticamente impeccabile, Danzo non ha sbagliato praticamente nulla, mentre tutti gli altri hanno sbagliato qualcosa o anche tanto. Arnautovic, per esempio, non mi è piaciuto come è entrato, non mi è piaciuto molto neanche Savitz, che ci ha messo molta fatica per entrare nel gioco, per essere partecipe, per essere protagonista, perché da lui ci si aspettava che fosse protagonista. Ma poi, dal punto di vista dell'organizzazione, la Francia come voleva giocare? Come voleva giocare? Con Ter Nantes che prendeva il pallone e andava di sfondamento e chi si è visto si è visto? Oppure con questa apertura, lancio lungo, cambio di gioco totale su Dembélé, che però era sempre costantemente isolato? Dov'è il gioco? Dove sono le iniziative? Nel secondo tempo hanno creato qualcosa, con un tiraccio di Turam, qualche altra situazione, qualche pericolosità. Di Mbappé sicuramente hanno anche, se vogliamo, legittimato poi quello che è stato il gol della vittoria, ma comunque il gol della vittoria è arrivato su un autogol dopo il quale non hai più cercato, quantomeno non immediatamente, di andare a segnare, di alzare i volumi di gioco, di rispettare, di rispettare le aspettative. Ora, ci si arrabbia perché è un'offesa, perché è uno spreco, perché è inaccettabile che anche la Francia debba giocare così male, come l'Inghilterra che pure vince, come il Belgio che però perde, e qui di oggi la lezione di calcio c'è stata con la Slovacchia, che ringraziamo ancora. Però in realtà bisogna essere contenti e soddisfatti, perché? Perché evidentemente questo tipo di non gioco e di anticalcio, alla fine non può che andare male, giocando in questo modo la Francia dove vuole andare, dall'altra parte l'Austria i suoi quantomeno tre punti per provare ad andare a giocarsela dignitosamente agli ottavi li potrebbe trovare. Ecco, potrei magari sintetizzare anche con un occhio alle statistiche per quella che è stata la partita, ecco, che non ho avuto tempo ancora di guardare, ecco, sicuramente possesso parla ugualmente suddiviso, ma leggermente in più l'Austria, due occasioni per parte, poi la Francia ha fatto 14 tiri, di cui nello specchio sono stati tre però, come anche tre dell'Austria, perché sono stati tiri fatti anche un po' male, cioè, occasioni sprecate, Austria tre tiri in porta su cinque, ovviamente per quanto riguarda l'XG trovi due per quanto riguarda la Francia, anche se a fine primo tempo era decisamente, era di meno, a fine primo tempo era 0,27 a 0,66 XG secondo Sofascore per l'Austria, l'Austria chiude con 0,77, quindi nel secondo tempo non riesce, ma perché? Perché nel secondo tempo si sono chiusi tutti quanti asserraiati dietro, la solita cosa, il principio di impenetrabilità dei corpi, dove deve passare questo pallone? Allora è dignitoso giocare così? È un'offesa al calcio, se tu sei la Francia, e allora deludenti queste big, il che potrebbe favorire l'Italia, ma a me non interessa dell'Italia, onestamente, ve lo dico, a me interessa che in questo europeo si giochi bene a calcio il più possibile e che non stiamo qui a perdere tempo o comunque a rischiare di perdere tempo guardando partite che non meritano evidentemente la nostra attenzione. E poi anche il volume di passaggi è comunque stato piuttosto basso, nessuna delle due squadre ha superato i 500 passaggi, il 475 l'Austria e comunque meno, il 454 la Francia. Poi l'altro tema in realtà sarebbe quello dell'arbitro, perché il tema dell'arbitro va assolutamente trattato, perché l'arbitro è stato pessimo, l'arbitro è stato pessimo. A parte la sceneggiata di Mbappé sanguinante che si ributta in campo sdraiato, ma cos'è? Ma cos'è? Ma l'arbitro è stato pessimo, ci sono due gialli all'Austria senza alcun senso, fischi per ogni tuffata, per ogni simulazione palese, spudorata, dei giocatori della Francia minimamente toccati. minimamente toccati, buttati a terra, oppure sgambettati per sbaglio a terra, fischio, fallo. E poi c'era un corner sull'occasione di Baumgartner nel primo tempo, con la parata di Mignan. Come ha fatto a non dare calcio d'angolo? Come si è potuto non dare calcio d'angolo? Sto ancora a cercare di capirlo, perché si è ripreso con un calcio di rinvio, con una rimessa dal fondo. Quindi è stato giudicato male, non c'era il rimbalzo. E lì non si è neanche protestato l'Austria, diciamo testa pass, serietà, per cercare comunque di continuare a giocare in maniera aggressiva, proattiva e propositiva, ma quello è stato un grave errore. Per quanto riguarda le formazioni, ripeto, sicuramente Weber è stato l'eroe in negativo della serata, l'eroe per la Francia, posh irriconoscibile, posh non sembrava assolutamente il posh del Bologna. Poi comunque il tecnico Rangnick, con i suoi magari errori, però ha cercato anche di cambiare l'inerzia della partita con delle sostituzioni che tutto sommato potevano anche essere funzionali, intelligenti. Forse Trauner non ha inciso particolarmente, Arnautovic già lo dicevo, Wimma ha avuto delle occasioni importanti, era un po' sprecata, è stato abbastanza impreciso. Ecco, però da un punto di vista dei posizionamenti in campo, dopo i cambi, l'Austria mi è sembrata stare abbastanza bene, cambi che sono stati fatti comunque dopo l'ora di gioco, ma abbastanza ravvicinati. Mentre per quanto riguarda la Francia, Meignan è sicuramente un ottimo portiere e ha inciso in positivo. Koundé, ma lì abbiamo visto fare delle spazzate che mai visto una cosa simile. Oltre che, cioè a livello di costruzione, Koundé in cosa avrebbe contribuito? Cioè da difensore ha avuto comunque un 86% di precisione dei passaggi, giocando per lo più nella propria metà campo, come terzino per lo più nella propria metà campo. Upamecano e Saliba sono andati pure abbastanza in difficoltà in certe situazioni. Fernandez a sprazzi, Koundé e sicuramente è sempre Koundé, grandi recuperi, grandissima corsa, ma abbastanza fuori dal gioco. Rabiot è meno inutile e lezioso del solito in questa posizione tra l'altro di mediano, meno svogliato per la situazione che abbiamo detto, ma comunque non una partita eccellente. E poi persino Grisman, tutto sommato, quanto ha fatto di straordinario Grisman a livello tecnico, ma soprattutto all'atteggiamento, poi quello che io soprattutto lamento. sicuramente molto preciso Mbappé con il 92% di precisione per quanto riguarda i tiri, però ha fatto un tiro in porta e uno fuori, poi anche Dembélé, ripeto, molto isolato e i cambi non mi hanno convinto. Fofanà e Giroud entrati tardissimo. Ecco, tra l'altro ha fatto quattro cambi in due slot De Champ, cioè è entrato tardissimo Fofanà, Giroud solo per sostituire Mbappé in quella sceneggiata, al 71esimo ti svegli e metti Camavinga, Colomuani senza neanche cambiare poi l'assetto, non è andato a mettere un attaccante in più, non è andato a mettere un centrocampista in più, non ha rafforzato la difesa, non ha cambiato l'atteggiamento. Insomma, veramente, estremamente deludente questa Francia. Ripeto, ci arrabbiamo per l'offesa al calcio, per l'offesa alla Francia, per l'offesa a questo europeo, perché non ha proprio senso presentarsi in questo modo. confidiamo a questo punto nel Portogallo, domani, perché praticamente le big benissimo soltanto la Germania, la Spagna, e vediamo domani il Portogallo. A questo punto mi rimangio il prestazione mediocre dell'Italia, me lo rimangio, perché l'Italia è stata una delle migliori squadre di questo europeo, fino a questo momento. Una delle migliori partite, una delle migliori prestazioni, fino a questo momento, dell'europeo, è stata proprio dell'Italia con l'Albania, il che promette molto bene, ma ripeto, a me non interessa che l'Italia vinca l'europeo, o vado in semifinale, o vado in finale, o vado dove vuole, ma che si giochi un buon calcio, e che vada avanti chi gioca meglio a calcio, e quindi la Francia out, cortesemente, il prima possibile. Vi ringrazio per la fiducia, la pazienza e l'attenzione anche fin qui, abbiamo seguito la partita in diretta, con la cronaca live su Juventus TV, iscrivetevi anche al loro canale, e da domani ancora, una live con loro, per parlare anche della Juventus, e come su Absimplay, mio terzo canale, tag in descrizione, come pure a Absimout, secondo canale con video brevi, anche di calciomercato, domani appunto la cronaca live, della partita del 18, che in questo momento non so quale sia, ma ci sarà. Grazie per la vostra attenzione, ci vediamo molto presto, e per il calcio voglio un allenatore. Grazie. Grazie. Grazie.